Buongiorno a tutti, vorrei iniziare a ringraziarvi per questo invito e ringraziare i partecipanti di questo evento, le autorità locali, regionali, rappresentanti delle città, esprimere il mio apprezzamento per il lavoro come attori chiave nella risposta europea alla crisi del Covid-19. Ci tengo anche a ringraziare i lavoratori del settore sanitario, dell'assistenza nei vari settori. La pandemia ha colpito duramente la nostra economia, ciò di cui l'Europa ha bisogno in questo momento così drammatico, un ambizioso piano di ripresa dalla crisi. Dobbiamo ricostruire le nostre economie, dobbiamo garantire che la ripresa non sia trainata dai paradigmi del passato. Dovremmo utilizzare gli stimoli economici forniti dalle istituzioni pubbliche per cambiare radicalmente i nostri modelli economici, garantire nel contempo una transizione equa, adatta a noi e alle generazioni future. Nessuno deve rimanere indietro, dobbiamo garantire la creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove opportunità per tutti. La politica regionale dell'Unione deve rimanere flessibile, deve rimanere efficace per affrontare le sfide legate alla crisi che il Covid ha provocato e la sua concezione e le sue modalità di attuazione la rendono idonea a svolgere un ruolo centrale nella ripresa economica per uscire da questa crisi sanitaria. Il Parlamento europeo sottolinea l'importanza del piano di investimento sostenibile del Just Transition Fund per contribuire a finanziare la transizione verso un'economia verde, giusta, in tutte le regioni dell'Unione. Saranno mobilitate risorse importanti, ingenti investimenti pubblici, privati, per aiutare concretamente le comunità più colpite dalla decarbonizzazione e incoraggiare allo stesso tempo progetti e iniziative proattive. Il Parlamento europeo è determinato a lavorare per una società a zero emissioni entro il 2050 ed è fortemente impegnato a trasformare l'Unione in una società più sana, sostenibile, equa, giusta, prospera, usare la leva delle enormi risorse economiche che l'Unione europea metterà a disposizione di tutti gli Stati membri per cambiare il modo di vivere, non per restaurare il passato così com'era, per avere finalmente un'economia ecologicamente sostenibile, che valorizzi le risorse del pianeta, non le impoverisca, che abbia al centro il bene di tutti e non solo il profitto di pochi. La Commissione europea lancerà presto un patto per il clima e questo patto potrebbe essere un'altra opportunità per riunire governi, regioni, comunità locali, società civile, scuole, imprese e singoli individui per condividere informazioni, creare spazi per esprimere idee innovative, facilitare le iniziative sul cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente. Questi investimenti devono essere funzionali per creare lavoro, per creare benessere, perché la questione sociale non è un'invenzione. Dobbiamo porci in un'ottica nuova, che ci permetta di abbracciare veramente quel cambio di paradigma che abbiamo auspicato all'inizio di questa crisi. Le città svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi climatici del nostro Green Deal. Esse sono al centro di molte delle sfide ambientali che dobbiamo affrontare oggi, ma sono anche il fulcro di soluzioni innovative. In quello che è sicuramente un anno impegnativo per tutti, vogliamo che le nostre città diventino più pulite, più accessibili a tutti, che tendano ad una mobilità sostenibile e intelligente, che fungano da veicolo per l'attuazione delle politiche future in tema di mobilità, per ridurre la congestione, per migliorare la vivibilità delle nostre città. Lo sviluppo di aree ricche di biodiversità e di infrastrutture verdi sarà importante. Anche per contribuire ad affrontare l'inquinamento atmosferico, il rumore, l'impatto del cambiamento climatico, le ondate di calore, le inondazioni, i problemi di salute, come abbiamo potuto sperimentare in questi mesi difficili. La transizione ecologica sarà trasversale a tutte le politiche dell'Unione, avrà un impatto su tutte le regioni dell'Unione in modi diversi, naturalmente. Per questo motivo il Parlamento europeo sostiene una cooperazione rafforzata con le città e le regioni europee. Il Covid ci ha rivelato tante realtà, ci ha dato tanti insegnamenti, ha rivelato la nostra fragilità, il nostro essere importanti l'uno per l'altro, l'importanza di agire insieme, di collaborare per il bene comune. Ma ci ha anche resi consapevoli delle nostre fragilità e dei nostri limiti. Un approccio unilaterale ed egoistico è destinato al fallimento. Per questo dobbiamo difendere e rafforzare la nostra unità. Il Parlamento europeo si impegna per garantire il pieno coinvolgimento delle regioni e delle città europee in questo processo. Grazie a tutti, buon lavoro, speriamo presto di poterci incontrare fisicamente.